Misterio, un analisi di questa partita? Io penso che abbiamo fatto una gara sia la Lagragas che la Mazzarese, una delle partite più belle che abbia visto fino adesso, anche per merito della Mazzarese che si è giocata la partita a viso aperto, soprattutto il secondo tempo, perché il primo tempo penso che la Lagragas ha fatto qualcosa in più rispetto alla Mazzarese, il secondo tempo è stato più equilibrato, la differenza l'ha fatta semplicemente che noi abbiamo fatto gol e loro hanno avuto quelle due palle dove le hanno fallite, però c'è anche da dire che nel primo tempo abbiamo avuto due palle importanti, quindi si equivalgono gli errori, però non per frase fatta e non per parole già dette, secondo me la Mazzarese è una delle squadre più forti che ho incontrato fino adesso. Si torna a vincere trasferta, che valore ha questa vittoria, questi tre punti? No, ma tu già sai Davide che per me le partite sono tutte quanto uguali, noi ha da tanto tempo che mi dicevate che c'erano queste tre partite, questo filotto di partite dove davano qualcosa di importante, io penso che ancora oggi siamo tutti quanti lì, anche chi ha 20 punti ancora ci sono 6 punti, ci sono 15-16 gare da giocare, anche di più, oggi essere contenti per il risultato sì, oggi essere soddisfatti per il risultato sì, ma oggi se noi pensiamo che abbiamo vinto il campionato vuol dire che non si è capito niente. Adesso la Coppa Italia, mercoledì contro il Marineo in trasferta, poi la Parmonval all'Esseneto. Partita per partita, noi mercoledì abbiamo il Marineo, io dico sempre che le partite anche il giovedì non si possono pensare di giocare tanto per giocare. Abbiamo una rossa ampia, una rossa dove si equivalgono i giocatori, la partita contro il Marineo deve essere una partita vera perché se io mi accorgo o mi accorcessi che qualcuno si tira fuori per la partita di Coppa Italia, per me è un giocatore finito per l'Agras. Un pensiero per i tifosi bianco-azzurri oggi numerosi qui a Linovacara? Ragazzi è inaspettabile, vedere in eccellenza 50-60 persone che vengono sempre seguito a prescindere il risultato e non solo, devo fare i complimenti per la maturità, persone che veramente tifano ma non rompono, che è diversa la cosa, le critiche durante l'anno ci sono, ci saranno, ci saranno sempre, ma questo fa parte del gioco quindi noi dobbiamo essere veramente orgogliosi di questi tifosi che vengono ogni domenica e che ci incitano ogni domenica. Grazie.